Amiche e amici di Firenze Viola Supersport, benvenuti a una nuova puntata di NBA 1-1-9-6 75esimo anno di NBA, quarta stagione appunto della nostra trasmissione con me, come sempre, Paolo Caselli Ciao Alessio, naturalmente buon basket a tutti 75 anni di NBA, anzi 90 anni di basket italiano della Federazione Italiana Pallacanestro insomma, tanta tanta roba Sì, prima dell'NBA c'era altro No, sono venuti dopo Sono venuti dopo, non è esattamente Direttora c'era due leghe, c'era l'ABA Sì, le NBA, sì, esatto Sai, l'NBA Da dove partiamo? Da dove partiamo? Ne abbiamo parlato già ieri, io rido, sai perché rido Sì, lo so perché ridi, perché c'è una squadra d'illusione che è la squadra che nel cuore ci sta è una squadra storica è la squadra che insieme ai Lakers ha vinto più titoli è una squadra di grande legacy, direbbero quelli che hanno studiato che però ha cambiato i personaggi sia in cabina di regia sia sul campo ma i risultati parlano due vinte e sei perse non sono ad attestare un buon inizio per i Celtics E soprattutto dei bruttissimi segnali è vero, sapevamo fin dalla prestagione, insomma fin dall'inizio e mancavano due cose principalmente un ball handler, un iniziatore dell'azione il problema è che ne manca uno secondo me è piuttosto pesante manca un Chris Polle, non uno qualsiasi è una mancanza bella grossa e anche profondità, talento in tutti i ruoli, quello sostanzialmente certo, partiamo da un presupposto bisogna dare tempo a Udoca al nuovo allenatore ogni discorso deve partire sempre da questo presupposto il discorso è che per adesso i segnali sono preoccupanti preoccupanti a livello di leadership perché Brown e Tecno sono due bei giocatori ma non hanno leader non sono leader tecnici Smart può essere un leader emotivo ma non tecno e poi ti fa un'altra domanda non so se hai visto qualche partita allora, ognuno gioca per conto suo ognuno tende a vincere la partita per conto proprio e questo porta alla fine anche a avere 19 punti di vantaggio sui Bulls per poi essere dissipati e avere un quarto da 11 punti 11 o 13, non ricordo di preciso ma cambia il giusto con 13 punti perdi contro le altre 29 squadre NBA sempre il discorso appunto dare tempo poi anche il discorso dei giocatori che sono stati presi ma non utilizzati mi viene in mente il Gangomez mi viene in mente Canter mi viene in mente il ritorno di Jabari Parker cioè sono giocatori che per adesso Udoca non vede non so se ovviamente potrà sperimentare avrà tempo però mancano tante cose mancano dei tiratori ad esempio Aaron Nesmith il sophomore scelto l'anno scorso al quattordicesimo posto mi pare del draft al quattordicesimo quindicesimo che era venuto lì per tirare perché era un tiratore al college è uno che ora non la mette nemmeno in una vasca da bagno quindi si è involuto ora va bene il passaggio la tradizione dal basket collegiale a quell'NBA però è un'involuzione pesante lei mi dice l'altezza dei canisti è la solita il pallone è lo stesso e la circonferenza del canisti è la stessa il discorso appunto al di là di un Grant Williams che ha iniziato a tirare da fuori di un Langford che qualche segnale lo sta dando e di un Orford che comunque apre sempre bene il campo e Orford è l'unico motivo per cui i Celtics difensivamente sono in questo inizio di stagione una squadra rispettabile al di là di questi tre giocatori c'è pochino c'è nulla considerando anche che hai due giocatori che chiamano tanti raddoppi come Tatum e Brown e Jalen Brown deve riempire la squadra dei tiratori sui riscarichi il tiratore deve essere pronto e tra lasciando anche il fatto appunto che poi sono stati anche oggetti oggetto di critica di Marcus Smart che dopo la sconfitta contro i Bulls si è lamentato nemmeno troppo velatamente dicendo che le squadre preparano la partita raddoppiando Tatum e Brown devono imparare a passare la palla devono imparare a smarcarsi tornando al discorso che dicevo io c'è la tendenza di questi giocatori a far tutto da soli e questo naturalmente come ha detto Lebron nessun giocatore vince la partita da solo allora io ti dico una cosa però su Smart che partiamo anche da Smart che è uno dei veterani della squadra è quello che dà più tempo lì dentro secondo me ha diritto di parola su tante cose ma non su questo sull'aspetto tecnico perché dal punto di vista tecnico Marcus Smart è un giocatore se basa tutto su quello che era prima all'inizio della carriera Marcus Smart ovvero difesa appunto quella che chiamate garra però dal punto di vista tecnico è un giocatore limitatissimo non può prendersi troppe responsabilità oltretutto da un paio d'anni a questa parte non so se stia recitando appunto una parte una scena una pantomima ma non è più nemmeno quel leader che era prima in preseason è stato sospeso perché è stato insomma non è andato in trasferta perché ha perso un volo comunque non è più nemmeno quel tipo di giocatore lì quindi in questo momento secondo me con tutto il bene che posso volergli da tifoso con tutto quello che ha dato alla causa Celtics io vedo un giocatore che ha poco diritto di parola che non è più nemmeno quel leader che era qualche anno fa ecco quindi secondo me i problemi passano anche da quelli problemi tecnici Smart deve avere un certo ruolo preciso all'interno di questa squadra un certo ruolo tecnico preciso all'interno di questa squadra non può iniziare a tirare da fuori come se fosse un tiratore non può iniziare a prendersi troppe responsabilità offensive non è quel tipo di giocatore lì se si sente quel tipo di giocatore lì allora subentrano altri problemi ancora in casa Celtics quindi questo mi sembra lampante evidente ma è un discorso condiviso parlavo anche con altri tifosi dei Celtics e mi dicono la stessa cosa quindi si se tu pensi quando ai Celtics c'erano Smart e Crowder erano loro due delle assi importanti di questa squadra come dicevi te Crowder ha dimostrato anche a Miami di essere un giocatore a Phoenix anche e anche a Phoenix di essere un giocatore presente un giocatore lì e anche nei momenti topici c'è anche un tiratore spendibile si si è un 3D moderno un classico 3D che comunque è uno che fa comodo a una squadra che vuol vincere infatti è sempre stato in squadre tra virgolette vincenti l'anno scorso è andato a due partite dal titolo la sua ennesima esperienza vincente appunto quindi è un giocatore che sai cosa ti può dare sai dove lo puoi mettere quindi benissimo senti dimmi dimmi ti faccio una domanda i Celtics avevano naturalmente fatto come tu dici sempre il paraprasante del poker un all-in su Award Irving e non erano ancora matuti maturi Tatum e Brown però da lì i Celtics sono entrati in una sorta di vortice si stanno si stanno girando su se stessi se il male era da N.A.A.G. forse abbiamo sbagliato l'obiettivo però dico che del post allora lui è andato appunto all'in 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 relativamente però dopo quella squadra molto giovane aveva raggiunto le finali di conferenza aggiungendo Award alla free agency e cari Irving uno si aspettava effettivamente di giocare per il titolo era il passo successivo che sembrava naturale poi abbiamo perso Award immediatamente Irving lo sappiamo benissimo come è andata la sua esperienza a Boston insomma una serie di problemi che non sono mai stati risolti da lì in poi però le scelte di Danny Ainge sono state tutte sbagliate quindi un cambio secondo me la guida tecnica ci stava la guida tecnica è dirigenziale non tecnica ci stava quindi si è fatto giustamente indietro è fatto un passo indietro il discorso è anche dal punto di vista invece della guida tecnica che Eudocca era stato preso lì messo lì perché anche era un grande motivatore quindi a differenza magari di Brad Steven che era un tattico un finissimo tattico un celebrale Eudocca era famoso conosciuto anche come motivatore il problema è che in queste prime otto partite di stagione manca tutto l'effort possibile cioè non si vede niente non si vede per niente la mano dell'allenatore e anzi se parliamo se lui è un motivatore stanno mancando tutti in primis anche Jalen Brown e Jason Tatum che sono i due giocatori che dovrebbero portarti in alto nella partita persa in casa con Toronto un Tatum da 2 su 15 si è terribile è terribile ma al di là di quello proprio manca sembrava anche un problema di atteggiamento anche da parte di Jalen Brown nonostante la grandissima partita all'esordio al Madison Square Garden partita comunque persa all'overtime tante partite troppe partite che perse all'overtime anche giustamente parlavi di quella con New York ma anche altre situazioni in cui sono arrivati testa a testa hanno perso la partita con i buzz più 19 devi saperla gestire con una squadra che stava andando bene perché evidentemente dei valori ci sono poi naturalmente anche perché non stiamo parlando ormai di una squadra giovane no una squadra in piena maturazione questi sono errori stando così le cose è una squadra che è proiettata al massimo al play in mi stupisce proprio l'atteggiamento sbagliato di tutta la squadra ovvero per dire anche Smart tornando a Smart era uno dei principali sostenitori di Udoka ma da quello che mette in campo proprio sembra mancare qualcosa sembra che qualcosa stia andando per il verso sbagliato poi ripetiamo sono otto partite Udoka è qui da pochissimo tempo però chi ben comincia a metà dell'opera è vero bisogna aspettare l'allenatore sono d'accordo con te di certo se poi però ti rendi conto che con Brown e Tetum non arrivi a vincere un titolo come primo e secondo violino allora lì si passerà a una fase successiva che è il rebuilding a livello di giocatori e quello richiederà tanto tempo quindi è una situazione comunque a cui stare molto attenti un The Boston Celtics in versione di UKC? no quello è un estremo che non credo che sia replicabile da nessun'altra squadra NBA cioè praticamente UKC sta portando all'estremo appunto quello che era stato il process dei Morey a Philadelphia ovvero accumulare scelte o comunque anche accumulare ruchi puoi scambiarle per altre scelte cercando poi di arrivare a quello che è il giocatore franchigia quindi comunque già dalla prossima off-season UKC si dovrà muovere per dare una sterzata a quest'andazzo comunque ci sono dei giovani molto interessanti uno Gigos Alexander su tutti sempre top scorer esatto vedremo come si svilupperà Pocus Eschi insomma Maldon ci sono dei dei bei giocatori però appunto è un processo che è un unicum che non è neanche visto così bene dall'NBA perché è un andare per giocare a perdere proprio spudorato però ecco così puoi mettere le basi per costruire una squadra vincente magari potrà replicare quella che aveva fatto tanto bene con Westbrook Durant Arden e compagnia varia i Baka certo comunque appunto giocare così a perdere George Paul viene da UKC anche Paul è passato da lì comunque il discorso è passato dai grandissimi giocatori anche Paul George il discorso è uno sostanzialmente che una cosa del genere te la puoi permettere a UKC non te la puoi permettere a Boston già a Philadelphia erano vista molto male dopo un paio di stagioni infatti poi Moreno non è riuscito a completare nemmeno il suo processo di Inky scusate mi sono confuso non sei minchi non more ovviamente non è riuscito a completare il suo process proprio per quello che a un certo punto la proprietà ha detto basta anche se secondo me se gli avessero lasciato un pochino di tempo in più le cose forse sarebbero andate diversamente a Philadelphia e non ci sarebbero stati quegli errori di fretta che hanno portato poi a prendere Butler Tobias Harris strapagato poi è claro un nucleo che sì forte ma che non giocava bene insieme comunque non giocava bene per vincere l'NBA l'amante del caffè però sta trascinando Miami è diventato veramente leader a Miami l'amante del caffè è sempre Butler e quante volte mi morderò le mani avendo avuto la possibilità di intervistare Butler era un tiro di schioppo veramente ma poi ti ripeto uno dei dirigenti di questa grande fabbrica di macchine da caffè è un mio carissimo amico il quale mi disse dice sai sei un giocatore dell'NBA e io dissi va chi non lo so Peter dice Butler come era lì Butler avrei chiamato subito il mio socio Alessi Provinziano sarei mandati anche in pigiama anche in malattia capito in qualunque circostanza e quella sarebbe stata una grandissima produzione però al di là delle nostre mancanze dei nostri buchi in termine giornalistico Butler è tempo che ha preso in mano Miami ha dimostrato di essere un leader al momento è uno per come ha iniziato la stagione è uno dei primi dieci giocatori della Lega e Miami è una squadra che adesso al momento c'è chi lo vedrebbe addirittura MVP ma sai adesso è prematuro fare qualche tipo di discorso è quasi per stagione ancora le squadre sono tutte in rodaggio però di certo tra tutte le squadre in rodaggio quella che è partita che è partita meglio una delle migliori comunque è proprio Miami che appunto Butler sta facendo una stagione da top 10 dell'NBA e Miami sembra una squadra a minimo finale di conference sembra tornata la squadra che due anni fa è in finale contro i Lakers nella bolla di Orlando sì in un momento quella quella ti faccio una domanda Alessio secondo te è una stagione da prendere in considerazione per i valori tecnici che più o meno pubblico senza pubblico una squadra esprime in campo oppure mi dici guarda Paolo quella è una bolla prendiamola mettiamola da parte la guardiamo però prendiamola così con Grano Salis prendiamola in considerazione però diciamo che poi vedendo anche come sono andate le cose l'anno successivo per dire un esempio tale Riru che è sembrato un giocatore molto involuto ecco va presa con le molle il titolo dei Lakers quei playoff tutti quei playoff sono dei playoff con l'asterisco un pochino sì però comunque questo non vuol dire non delegittima niente ovviamente alla cavalcata né dei Miami né dei Lakers a proposito di Lakers leggevo da qualche parte per gli spunti che spesso che spesso mi dai dei titoli Lakers che stanotte hanno battuto Houston anzi l'altra notte hanno battuto Houston in volata però sta trovando la difesa sai se c'è la difesa vuoi che è un allenatore molto intelligente che ha basato sempre le sue squadre insomma le ha fatte lavorare tanto sulla difesa dice intanto partiamo da lì poi vediamo come far coesistere i campioni che i campioni effettivamente sono anche se come abbiamo ripetuto anche nelle prime due puntate fittano male insieme tecnicamente come Westbrook e Lebron James la quadra la troveranno secondo me un giocatore potrà dar tanto Every Bradley al rientro a proposito di ex Celtics e anche di ex Miami Heat tra l'altro è uno che potrà essere molto più utile di un rondo che secondo me è un po' alla frutta Bradley può essere un po' l'ago della bilancia del back out dei Lakers così come sta facendo molto bene a differenza appunto di Westbrook proprio Carmelo Anthony che sta giocando non dico dal sesto como dell'anno ma si sta togliendo le sue soddisfazioni ad alto livello dopo una carriera che magari non gli ha regalato mai delle occasioni per vincere tornando un attimino a Miami perché secondo me è molto interessante una delle squadre migliori della Easter Conference se non la migliore al momento insieme ai Chicago Bulls secondo me hanno fatto un mercato perfetto perfetto per quello che serviva perfetto per la hit culture cioè quindi un mercato proprio adatto a quello che volevano costruire prendendo Kyle Lowry e PJ Tucker raggiungendo sostanzialmente questi due giocatori lì che sono veramente fatti col sarto per questo sistema come dici il diavolo fa le pentole non fa coperchi però quel diavolo lì qualcosa in cabina di regia sto parlando del nostro amico il signore degli anelli il signore degli anelli il signore degli anelli qualcosa ci capisce sì no infatti guarda delle addizioni veramente senza tu dire niente la spestra che per me è un ottimo sì 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 ma infatti mi ricordo quando era stato erroneamente considerato inizio carriera come un gestore di spogliatoio quando i Miami Heat vinsero con Dwayne Wade Lebron James e Chris Bosh poi si è invece rivelato un grandissimo allenatore uno dei migliori tattici dell'intero NBA e questo non c'è solo la bolla di Orlando di due anni fa a dimostrarlo per la vittoria della Easter Conference e eventualmente anche per la vittoria del titolo l'altra squadra che è iniziata alla grande sono i Chicago Bulls anche DeRozan sta giocando da top 10 dell'NBA come uno dei migliori giocatori dell'NBA sembra quello che mancava una squadra che era giovane talentuosa ma giovane perché effettivamente nonostante tutti i difetti uno può analizzare statisticamente il basket quanto vuole può parlare di appunto le statistiche avanzate il mid range che non è produttivo che non è appunto ottimale per l'NBA in moderna però DeRozan ha cambiato per lo meno per adesso il volto di una squadra insieme ovviamente anche a Vucevic hanno un centro che gioca sì poi Markanen era uno dei leader fino a 4-5 anni fa ha dimostrato di non esserlo per infortuni e per sue mancanze anche a livello caratteriale con Vucevic hanno un centro squadra allenata pessimamente da Jim Boyden quello era un allenatore che non so come facesse a stare in NBA e sono buono Donovan invece ci stai come sì sì sicuramente c'è da dire anche c'è da parlare se parliamo dei Vucevic da dire che purtroppo una cosa che può frenare anche le ambizioni della squadra si è rotto Pat Williams Patrick Williams il sophomore che era atteso appunto a una stagione di conferma delle buone cose fatte vedere al primo anno ma soprattutto era l'unico 4 l'unica alla forte di ruolo che avevano il miglior difensore probabilmente del quintetto nonostante fosse così giovane quindi si è rotto la mano il polso si ritrovano con un buco enorme per tutta la stagione c'è Gio Montegrin è vero come 4 che ha giocato benino in preseason il resto poi lo lasciamo perdere la Lizzie Johnson in poi in giù però qualcosa deve essere fatto una squadra con le ambizioni dei boost di quest'anno devono andare subito nel mercato dei free agent a pigliare un veterano di esperienza che colmi quel buco immediatamente senza perdere tempo e guarda Facebook a volte aiuta a volte bene lasciar perdere i social però mi ha ricordato che il 3 di novembre del 2019 io ero allo United Center di Chicago un'esperienza meravigliosa pensare che in quel palazzetto hanno giocato immensi grandissimi giocatori uno su tutti Michael Jordan pensavo di cesserci Dennis Rodman uno su tutti allora ti dico te l'ho sempre detto all'epoca Mark Hannon era il giocatore leader però le magliette più vendute Jordan per dispersione però la seconda era Rodman poi Pippen e poi Kukos ma Jordan Rodman stai attento vestito da sposa poi rendi per me esatto ma hai sentito tra l'altro della polemichetta poi torniamo di Pippen contro Jordan che anche lui ha poco apprezzato insomma The Last Dance l'operazione commerciale perché di quello si tratta è stata The Last Dance appunto una celebrazione di un'auto celebrazione quasi di Michael Jordan qual è la marca di scarpe più venduta? Lei Jordan ha ragione lui io torno sempre a quello che diceva il nipote in un tema in classe dice che lavoro farei da grande niente mio zio è Michael Jordan Michael Jordan è e sarà sempre una macchina di quattrini Pippen molto meno sì quello ovviamente e quindi sai c'è anche una forma ma appunto per quello forse Jordan potrebbe anche fare l'esigenza di Jordan dimostrarsi sempre come il più grande di tutti cosa che legittimamente può anche essere però è quasi stucchevole effettivamente quello è il discorso di Pippen lo capisco cioè mettere lui davanti a tutto il resto davanti anche ai compagni di squadra abbiamo parlato di The Last Dance lo scorso anno che guarda caso quelle immagini erano di proprietà dell'NBA ma da tanti anni guarda caso poi The Last Dance però è uscito in un momento storico in cui Lebron James che sembravano appunto avere la meglio non la meglio però comunque nell'immaginario collettivo stavano facendo dei gradi passi in avanti quindi è stata secondo me un'operazione di Jordan per dire il migliore di tutti sono io sono sempre stato io e rimarrò sempre io bene Lebron bene Steph però io sono Michael Jordan sì ti faccio un paragone con il calcio ci sono stati dei grandissimi Franz Beckenbauer ai tempi che sono stati degli immensi però giocatori che hanno riconosciuto anche il valore degli altri uno per me il più grande giocatore europeo che ha sempre detto sì sì bravi tutti ma io anche lui sono io sì sì ma quella è una certa dose di arroganza e anche lui come allenatore benino anche se comunque anche lì ha portato delle idee che poi sono state riprese ma erano sue erano di Michels è vero però ha portato comunque delle idee che poi invece sono state modernizzate prima da Rijkaard poi estremizzate magari da Guardiola quindi comunque però la stella soprattutto io ho fatto paragone calcistico ti faccio un paragone dell'arte Michelangelo sapeva di essere Michelangelo e voleva essere pagato da Michelangelo e ha voluto essere fino all'ultimo minuto Michelangelo è giustissimo se io sono consapevole di essere bravo poi ci sono dei leader che capiscono che vedono il passare del tempo ti ho detto di Beckenbauer ti ho detto di questi grandi immensi giocatori a tutti i livelli Bill Russell è stato uno dei più grandi giocatori di NBA se parliamo di vittoria è stato il migliore in assoluto però se parli con Bill Russell l'ho visto in varie interviste erano tutti migliori di lui io non capisco come mai poi magari lo dici anche per darsi un tono se uno vince 9 titoli in 11 anni non c'è poco da discutere se parliamo di giocatori vincenti questo è il migliore di tutti poi possiamo parlare di Chamberlain di Abu Dhabi ma parlando di Chamberlain dice ma lei quante donne ha avuto perché Chamberlain ci ha detto che ma dove lo trovava il tempo ci sono degli atteggiamenti dei grandi Larry Bird sono modi di approcciarsi totalmente diversi ma lo stesso lo stesso Magic che è stato un grandissimo però non ha mai avuto questa voglia di stare per forza sotto riflettori Lebron ci sta però non è questa voglia perché è chiamato a parlare di temi un pochino più scostanti fa un passo avanti e due indietro poi a livello mediatico l'abbiamo detto comunque sono tempi è cambiato è cambiato è cambiato il modo di comunicare quindi non si può neanche fare paragoni si possono fare certo parlavamo la scorsa settimana appunto di quello di come Senna è stato criticato in carriera per dire o per lei stesso siano stati criticati ma è cambiata totalmente la società fra virgolette i predicatori quelli che dovevano essere dei simboli sono diventati simboli in maniera diversa sono simboli sui social sono simboli con lustrine e paillette sono i famosi influencer non troverai mai giocatori che danno un loro significato un loro simbolo in un momento di transizione in cui l'NBA diventava da una lega ghetto tornando al discorso della fondazione a una lega di giocatori spendibili e spendibili anche per il grande pubblico un evergreen Dennis Rodman che sarebbe stato adesso sarebbe un influencer clamoroso si accidenti certo sarebbe sicuramente il giocatore NBA con più follower sui social network naturalmente uno ti dice il miglior amico il premier il premier nordcoreano dove vogliamo andare infatti di cosa stiamo parlando davvero comunque allora volevo rimanere volevo parlare di un'altra squadra ad est brevemente ovvero dei Cleveland Cavaliers che sono partiti molto bene con un quintetto in completa controtendenza rispetto all'NBA attuale ovvero loro partono con Markkinen Evan Mobley e Jared Allen titolari da 3 da 4 e da 5 allora facendo un piccolo appunto che abbiamo parlato prima su Markkinen che da 3 quindi dalla piccola è un difensore più rispettabile di quello che si credesse cioè perché sta giocando benino sta tirando ancora male ma magari il tiro arriverà però si sta riciclionando appunto con un ruolo che può essere funzionale anche giocando accanto a due lunghi veri quindi questi qui giocano con 3 lunghi se lo possono permettere secondo me per un motivo perché questo è un giocatore che è destinato non so se a vincere il tiro dell'NBA ma sarà in corsa ovvero Ivan Mobley secondo la scelta assoluta del draft dello scorso giugno che è un giocatore straordinario difensivamente per me già oggi uno dei migliori difensori dell'NBA muove i piedi sia contro i lunghi che contro i piccoli cambia su tutti è uno stoppatore con istinti clamorosi è un attaccante rispettabile sia con la doppia dimensione dentro o fuori si facevano i paragoni con Chris Bosch secondo me diventerà ancora meglio come difensore mi ricorda sinistramente Kevin Garnett al suo prime ovvero può diventare non è ancora quello ovviamente può diventarlo come istinti ed è un giocatore secondo me di quelli che ti cambiano il corso di una franchigia da così a così quindi Mobley in attesa di vedere quello che sarà Kate Cunningham ovvero la prima scelta assoluta che è fuori misteriosamente perché a Detroit avevano detto vabbè è fuori per la preseason poi è fuori solo per qualche giorno all'inizio stagione invece è ancora fuori dovrebbe rientrare appunto in settimana verso la fine della settimana magari lo vogliono fare rientrare contro gli Houston Rockets proprio per dargli una vittoria facile anche Detroit partenza agghiacciante disastrosa ma ci sta perché appunto senza quello che deve essere il giocatore franchigia designata però in attesa appunto di vedere che giocatore sarà Kate Cunningham avendo già visto comunque che Jalen Green diventerà un realizzatore sicuramente dell'elite dell'NBA e Mobley sicuramente a me ha stupito tantissimo ma tantissimo tantissimo è proprio forte forte cioè uno di quelli che cambierà appunto il corso ti porta a lottare per il titolo cambia il volto di una squadra da così a così questo appunto è motivo anche per cui Cleveland ad oggi si può permettere di giocare con un quintetto con tre lunghi poi chiaramente in un processo eventuale di crescita altre valutazioni dovranno essere fatte sicuramente anche la coesistenza tra Garland e Sexton nel back out c'è da dire anche parlare dell'apporto positivo di Rubio di cui parlano già bene tutti e anche dell'apporto positivo di Kevin Love della panchina su cui nessuno avrebbe scommesso fino a qualche mese fa quindi Cleveland Cavaliers sicuramente caleranno e non è detto nemmeno che raggiungano un play-in però sono partiti bene con un record del 50% e soprattutto danno segnali ottimi per il futuro appunto te l'ho detto ripeto uno su tutti i Mobley la bellezza guarda in questi discursi che tu fai io naturalmente ti seguo per strada poi magari mi fermo per alcune considerazioni è la bellezza dello sport statunitense perché Cleveland con Lebron aveva vinto il titolo e poi ha avuto momenti di anonimato adesso giustamente Alessio vi sta presentando questi nuovi protagonisti che potranno riportare Cleveland non dico a vincere il titolo ma essere i protagonisti tornerà anche Detroit ci saranno dei momenti delle squadre su anche Detroit ovviamente il metodo proprio sportivo con il draft con la free agency con il salvo di cambio lo sport statunitense ha questo di bello lo sport europeo no guardiamo in Italia nella pallavolo io seguo quella femminile Imoco e poco altro nel basket Olimpia e un po' di Virtus andiamo a vedere il calcio c'è stato il dominio della Juventus Pallannuoto Prorecco negli altri campionati in Germania vince sempre il Bayern l'Inghilterra che è anglosassone attenzione ha questa logica anche per i grandi investimenti però se vedi ci sono troppe categorie lo sport statunitense e non a caso muove grandi interessi perché è uno sport veramente democratico sì sì ma appunto per due motivi sostanzialmente per il meccanismo del draft per il meccanismo del salari cap il salari cap è detto proprio in maniera molto semplice vuol dire che se il tetto salariale di una squadra è 100 milioni tu ne puoi spendere 120 perché non è un hard cup è un soft cup l'hard cup invece c'è in NFL in cui non lo puoi mai sforare quella cifra non può mai essere sforata qui puoi spendere 120 però spendi 120 già da dare ai tuoi giocatori appunto come contratti più i 20 case 4 li redistribuisce tutte le altre franchigie quindi è un metodo sì molto sicuramente molto democratico poi ci sono anche le NBA squadre che spendono meno a Cleveland a Phoenix in questi giorni è criticatissimo il proprietario server che è accusato di essere un pochino braccino non avendo concesso il rinnovo al massimo salariale ad Dayton non avendo rinnovato nemmeno il contratto da rookie di Jalen Smith la decima scelta dello scorso anno quindi ci sono comunque i proprietari più braccini però di certo il metodo di fondo consente a tutti di competere per il titolo infatti Phoenix nonostante un proprietario a quanto pare braccino l'anno scorso è arrivato a due partite dal titolo quindi sì in quelle molto democratiche poi dicevi appunto Detroit inizio disastroso però vediamo chi è Cunningham perché se ne parla come di un simil don io non credo sarà un tipo di giocatore così dominante sin da subito però è un giocatore che sicuramente si prospetta molto interessante e poi il nucleo di giovani è comunque valido Isaiah Stewart Sadik Bey Jeremy Grant che secondo me c'entra pochino con la timeline di questo gruppo però comunque verranno fatti anche delle valutazioni poi il disattro secondo me è stata la prima scelta dello scorso anno ovvero Kylian Hayes che è veramente un giocatore che secondo me dovrebbe farsi un pochino di G League il francese che è veramente un pesce for d'acqua non a Detroit nell'NBA in generale per adesso però sì quello che dicevi te è giusto è bello l'NBA per quello perché un anno vince una squadra un anno ne vince un'altra le dinastie o comunque non solo le dinastie le squadre che sanno mantenersi ad alti livelli per tanto tempo sono un'anomalia abbiamo un esempio di San Antonio Sports o comunque squadre tipo Miami che difficilmente incappano in tante stagioni sbagliate però sono appunto un'anomalia e sono sempre figlie di progetti mirati progetti vincenti esatto cioè tutto lì Cleveland sì in un paio d'anni se costruirà bene attorno a Mobley avrà la possibilità di tornare a essere una squadra vincente che evidentemente era stata disastrosa dopo il primo addio di LeBron James la peggio squadra NBA per qualche anno insomma senza dubbio quello è emblemato poi ti volevo parlare di una delle novità che poi magari approfondiremo nella prossima puntata che merita un discorso più ampio secondo me della nuova regola dei fischi arbitrari cioè gli arbitri ora non tutelano più così tanto l'attaccante quindi vi ricordo un Harden un Trajan colpa degli attaccanti gli attaccanti sfruttavano una falla del regolamento troppe concessioni da parte degli arbitri e quindi molti meno viaggi in Luneta che i difensori sono più tutelati quando si abusa di una norma poi quella norma visto che dà dei vantaggi viene tolta sì sì ma poi è emblematico che gente come sono appunto un campione ridotto di partite ma gente come Rillard Trajan James Harden hanno una media punti però adesso molto più bassa rispetto a quella dell'anno scorso quindi è una novità regolamentare tra l'altro l'NBA vuole stappare voglia parlare anche del fatto di limitare i falli in contropiede cioè detto in parole povere tipo la regola del vantaggio nel calcio quindi il fallo intenzionale per bloccare un contropiede vorrebbe limitarlo e secondo me è una cosa molto difficile da fare perché te devi poi sei in diritto difesa di spendere un fallo per fermare il cronometro per fermare un'azione intanto c'è già la differenza tra i flagrant foul tipo tra gli atti sportivi e gli altri quindi non lo so però nell'ottica di velocizzare il gioco era una cosa a cui l'NBA starebbe ragionando vedremo le novità poi l'altra novità della stagione comunque sono stati i palloni perché siamo passati dalla Spodding alla Wilson e non è una novità a quanto pare da poco perché si è elementato niente un po' di meno che Paul George detto sempre di avere per le mani una cosa totalmente diversa ora io questo non lo so non l'ho ancora preso per mai non c'è stato il modo di poi se lo dice Paul George una cosa di quello che tu mi hai detto che mi ha portato a una riflessione molte volte per snellire il gioco il più delle volte si fa si dà un vantaggio al gioco per l'aspetto a polarità vero l'abbiamo visto nella palla a volo il fatto che non ci sia più il cambio di palla il fatto nel rugby l'uscita del pallone dalla mischia dopo 5 secondi secondo me sono tutti vantaggi nell'EBA che è un gioco estremamente strategico vedremo quello che porterà naturalmente non è che dopo tre partite possiamo dire sì pollice verso o pollice su bisogna aspettare sembra un'ovvietà in altri sport la diciamo la velocizzazione del gioco ha portato alla più spettacolarità difficile è uno sport che è spettacolare già di se stesso io al massimo per adesso appunto è un campione ridotto spero la tendenza si mantenga intatta per il resto della stagione però il pollice su lo do al tutelare di più i difensori insomma lasciare più correre non fischiare dei falli cercati appositamente dagli attaccanti sono d'accordo con te anche perché è una cosa che infatti uno comunque dei più felici di questo cambio di metro arbitrale è Draymond Green ma non ci lui poi ma anche perché questa è una cosa è stata voluta dagli attaccanti perché estremizzando enfatizzando quello che succedeva le persone il pubblico è uno show ma non deve finire una pagliacciata Arden che si schiantava da solo con un giocatore fermo lo stesso Steph Curry qualche volta ne ha abusato insomma era anche piuttosto stucchevole da vedere è pur sempre uno sport non è un gioco non è uno show certo è pur sempre uno sport è vero comunque per finire visto che abbiamo parlato di squadre di cui magari non parliamo spesso e sono le squadre cosiddette scarse se possiamo utilizzare questo termine in senso molto lato il Sacramento Kings sono una di quelle che hanno iniziato benino nonostante quello che per me è il peggior allenatore della Lega ovvero Luke Walton hanno iniziato con un record intorno al 50% però secondo me a differenza dei Cavaliers hanno un problema oddio un problema che un pochino in parte condividono anche con i Cavaliers ovvero due giocatori simili nel back out da quella parte Garland e Sexton che però hanno dato vita questa piccola parte sia uno dei soprannomi più belli della storia dell'NBA Sexland è stupendo bellissimo in Sacramento Kings questo problema lo estremizzano perché i tre migliori giocatori sono tutti nello stesso ruolo ovvero di Aaron Fox Tyrese Allibart hanno scelto lo scorso anno e quest'anno hanno scelto un bel cagnaccio perché un bel giocatore è Davion Mitchell che però cozza un pochino con gli altri due ora giusto andare a prendere il miglior giocatore disponibile nel caso di Sacramento Kings perché devi sostanzialmente creare una squadra da zero però se ne hai tre dello stesso ruolo i tre migliori giocatori sono nello stesso ruolo qualcosina dovrà sistemare in futuro vedremo sì io lì mi fido molto di Harrison Barnes che è un giocatore che è stato un squadre vincenti che è un leader che è un giocatore infatti prima delle deadline secondo me sarà un giocatore cercato tra tante squadre proprio perché in quel contesto c'entra poco sia con la timeline dei Sacramento Kings sia proprio per un contesto che anche per quest'anno sarà perdente e invece potrà fare comodo a tantissime squadre una su tutte ne avrebbe un bisogno enorme questo buco nel ruolo di Alaforte nel ruolo di quattro che Harrison Barnes colmerebbe perfettamente di Sacramento Kings può essere una squadra da play in e da fare qualcosa di decente se Buddy Hilde riesce a fare quel salto di qualità che per adesso stento a vedere non lo farà non lo farà no secondo me sarà ceduto anche lui prima della deadline perché è un altro gallo in un pollaio e vede troppe guardie nel back out e con caratteristiche molto simili ci sono più guardie lì che in una caserma di granate ti dico anche una cosa in contrattendenza magari sì io cederei di Aaron Fox per tenere Gali Barton e Davion Mitchell uno anche perché costeranno meno il problema è anche di Fox che ha firmato un contratto al massimo salariale quindi è molto poco cedibile al momento poi abbiamo capito che tu chiameresti l'allenatore ma questo lo dice ah quello io non capisco come Walton faccio lo capisco lo capisco per il cognome e per il curriculum comunque è stato assistente anche di Steve Kerr però sinceramente ha fatto più danni della grandi il Sacramento Kings lo scorso anno sono stati la peggior difesa della storia dell'NBA con la seconda che arrivava a quarta a quinta a quinta a quinta a quinta anche l'Amero Giochi mi conosce due fa quei due a volte male ne hai visti due sì un paio l'ho visto io ho fatto fatica ho fatto fatica un paio l'ho visto un paio l'ho visto del nostro direttore sul basket nostrano italiano insomma prima toscano e poi italiano a noi non ci resta che augurarvi buon basket a tutti buon basket